Salve tutti ragazzi, siamo sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera natura e giramondo, siamo alla terza stagione con il Crystal Palace, ci siamo trasferiti ormai qualche episodio fa, abbiamo già iniziato a fare calcio a mercato, nello scorso episodio tre colpi, una sessione molto importante ma tre colpi, adesso dobbiamo andarci a rinforzare ulteriormente. Se vi vana da recuperare la episodio precedente, proprio perché appunto adesso vi spoilererò i colpi che abbiamo fatto. Boys, abbiamo ancora 79 milioni, 80 milioni, qualche altra sessione da fare, ma una squadra da rinforzare. Prima di tutto abbiamo venduto un attaccante, dobbiamo acquistare un altro attaccante. Ci possiamo anche fidare di matetà, però io voglio un giocatore che dia quel pepe, no? Al ruolo. Un giocatore deve dare il massimo ogni volta che entra in campo perché sa che c'è un altro giocatore che potrebbe rubargli il posto. Insomma, voglio questa dualità. Ci può dire? Lo diciamo. Nello scorso video vi ho fatto vedere un po' di nomi, adesso andremo a parlare. Sulla tre quarti per il momento ci siamo, è il punto del campo dove siamo messi meglio. Non capisco perché se faccio così mi fa vedere William. Ma scusa, eh. William può fare il tre quartiste? No. Ma allora perché mi fai vedere come primo sostituto William? Vabbè. A centro campo siamo ancora un po' corti, siamo corti anche in difesa centrale. Serve un altro difensore centrale. E mi è arrivata una offerta, da qui in istituto potete già vedere i nuovi acquisti, Gravara, Pomigal, Malogusto. Tre giocatori che saranno titolari in questa nuova Premier League. Mi è arrivata, dicevo, un'offerta per quanto riguarda... Gye Yee. Il Dallas. Bellissima offerta, ma... Gye Yee è in un momento in cui probabilmente l'unico punto in cui può andare nella sua carriera adesso è una top inglese. Quindi andare al Dallas in America nel momento in cui si sta sviluppando maggiormente non mi sembra credibile. Soprattutto perché ha la fascia da capitano. E poi perché sinceramente il Dallas che va a spendere questa cifra mi sembra improbabile. Però bellissimo il fatto che sia proprio il Dallas che viene a chiedere a noi un calciatore. Questione attaccante. Vi avevo fatto vedere qualche nome. E mi avete detto... Vi basta andare a rivedere i commenti. Effettivamente sono tutti molto interessanti quelli che ho inserito. Però lui, ragazzi. Betto. Betto. E 46 di agilità. Effettivamente mi spaventa un po', ma... La voglia di provarlo è tantissima. La voglia di provarlo è tantissima. Quindi io vado... Su Betto. Vado subito su Betto. Vi basta andare a vedere i commenti del video precedente, ragazzi. Cioè... Vai, Betto, è perfetto. Sì, Betto, 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 Betto. Prendi Betto. Prima posso essere il posto giusto per lui. Voglio uno Brooks. Che vale 35 milioni. Mi potete solamente sucare. Voglio 35 milioni 600 ton di puliti. Più 10% della causa. Per me sono troppi. Quindi vediamo se riusciamo ad abbassare un po' il prezzo. Tirando un pochettino. Rischiando qualcosa. Ma va bene lo stesso. Vabbè, signori. 28 milioni e mezzo. 10% della rivendita. Va bene così. Va bene lo stesso. Betone. Betone. Mi avete detto, occhio, perché ha un palo. Effettivamente quel poco di agilità che ha. Potrebbe essere rischioso. Però con i 3-3 quartisti, se riusciamo a servirlo bene, può essere letale. Letale. Anche perché in velocità poi è una belva. Quindi se gli andiamo in profondità, tanta roba. Turnover, vediamo cosa ci dice. Cruciale. Uh, cruciale. Occhio che c'è matta età, figlio mio, eh. Occhio che c'è matta età. Però è un bel investimento, quindi punteremo subito. Punteremo subito, subito. 5 gol, un po' pochi. Ci stiamo? Perfetto. Abbiamo giocato anche un pochettino sullo stipendio. Ottimo, signori. Il nuovo acquisto per quest'anno in attacco è proprio Beto. Che si va subito a inserire qui. E gli andiamo a dare un piano di crescita. A vedere se riesce comunque a migliorarsi leggermente sulla... Allora, non è forte quanto Edward. Abbiamo risparmiato qualcosina nel trasferimento, però. Proprio perché voglio che anche matta età abbia spazio. Penso ci possa stare. Rapace. Rapace. Serto che piede debole, tre stelle. Sentite, chi se ne frega dell'agilità. Proviamo a migliorare il piede debole, però non so se ce la faremo. Ok, perfetto. Quest'anno in attacco, ci siamo. Ora, secondo me, bisogna rinforzare un attimo difesa e centro campo. Offerta per il trasferimento per Street. Il Tuente. Va bene, ci sto. Ciao. Tra l'altro, secondo me, tra poco inizierà anche la Premier. Ah, eccola, infatti. Fare il trasferimento. Il Norgelland per Spence. Liberiamoci di qualche esubero. Sì, 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 sì. Eccolo lì, il Brighton, ragazzi. Arrivano dei resoconti. Spence venduto. Fare il trasferimento. Lo Sporting. Interessante. Mi offre Edwards, che sta facendo discretamente bene. Con lo Sporting. Però a me non serve. Rifiutiamo. Rifiutiamo. Occhio, perché Gain non è sul mercato, ma rischia di volare, purtroppo. Mi duole dirlo. Avevo inserito qualche difensore nell'hub mercato, ma ancora non ho i resoconti. Signor, io voglio andare a giocare. Voglio provare la squadra. Voglio vedere cosa c'è che non va. Se c'è qualche problema, se c'è qualche cosa che dobbiamo cambiare. Andiamo subito con quella che tecnicamente sarà la formazione titolare per tutto l'anno. Secondo le mie idee. E occhio, perché comunque il Brighton... Cosa ho cliccato qui? Mi è partita la webcam. E occhio, dicevo, perché il Brighton ha una bella squadretta. Noi ci siamo. Ragazzi, andiamo in campo. Non vedo l'ora di provarli. Sempre sul pezzo per questo esordio in Premier League. Per il Crystal Palace. Andiamo. Sempre sul pezzo è forza questa palla. Non te lo devi dimenticare. Mamma mia, ma queste sensazioni qui, raga. Ma queste sensazioni qui di Premier League. Che bello. Che bello, che bello. Eccolo Brooks. Non mi richiordo che piede è. Mancino, direi. Beto. La protegge. Occhio ad Eze. Al centro per Olise. Cucureia e poi... Si presenta... Si presenta così Atomical. Con un euro goal. Dopo cinque minuti. Paxton. Un gol splendido. Un gol splendido. Qui Olise l'aveva tirata a fan giro. Una bomba. Clamorosa di Pomical. Con Sanchez che sicuramente poteva fare meglio, ma... Non gli si danno, secondo me, delle colpe. Gravara. Eccolo il primo intervento del portiere ex Copenhagen su Pazondaka. Eccolo, amo. Attenzione, amo. Occhio, amo. È velocissimo, amo. Amo. Mamma mia, amo. Bravissimo. Attenzione perché la recupera Pomi. Dello stretto Brooks. 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 Mettila morbida. Mannaggia, i sandali. Si gira Pep. Si gira Pep. Si gira Pep. Con il destro, Pep. Il palo. E poi... Fuori gioco di Beto. Peccato. Stavo per dire, la prima firma di Beto. Ma niente da fare. Forse ripartiamo? No, non c'è tempo. Va bene così, signori. I primi tre punti in questa Premier League del Crystal Palace. Coach Menzo subito all'attivo. Con una prestazione super convincente. Il Brighton male. Noi, devo dire, abbastanza bene. L'altre quarti non mi ha convinto. Sono sincero. L'altre quarti non mi ha convinto. L'altre quarti di titolare. Molto meglio invece. Babbia le amo. Però... Oh, calma. Valutiamo. Valutiamo. Il posizionamento non mi ha convinto. Forse è meglio. Brooks a sinistra. Eze centrale. E Olise sulla destra. Perché vorrei provare questa volta a mettere più cross in mezzo. Il resto, Pomica al totale. Ferguson benissimo. Malogusto non ha fatto nessun intervento difensivo. Cadenza in via convocazione per la Nazionale. Il 25 di agosto. Ok, abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi possiamo andare a giocare, ragazzi, a partita contro l'Everton. Ci riproviamo. Così. Sì, assolutamente. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo. Forza Crystal Palace. Questa partita sarà sicuramente più complicata della precedente. Ecco lo Brooks. Subito con il controllo. Punto attese. Brooks lo fa fuori. La mette in mezzo sul primo. Arriva Beto, forse un po' in ritardo l'Ese ci prova con un volo incredibile. Ormai la prende. Oh, che ciucuese. Siamo subito messi male in campo. Ma c'è. Il signor Grabara. Che riprende da dove aveva mollato. Ovvero parando. Bravo che è. Sessione abbastanza complicata. Andersen. La coppia difensiva devo dire che funziona per ora. Eccola Malagusto. Intervento clamoroso. Ciamadoschia. No, dai. Eze, per favore. Io vi vendo tutti. Io non mi faccio problemi a vendervi tutti, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo. Andiamo, te prego. Andiamo, Brooks. Sì. L'ho già vista. L'ho già vista. Ma, mannaggia, Kin. Ma, veramente. Occhio d'Eze. Perché accelera. Finalmente accelera, mi verrebbe da dire. Il destro. Eccolo. Finalmente il primo. Ho dato un pugno al microfono, scusate. Il primo squillo di Eze. Un zero Crystal Palace. Dopo 40 minuti di sofferenza. Con qualche leggero tentativo. Di ribaltare il fronte. Ci siamo riusciti. Con una difesa dell'Everton che arretra decisamente troppo. Grazie a un inserimento di Beto. E poi così. Un destro mostruoso. E sontuoso. Di Eze. Io ho l'impressione. Ho già l'impressione che i nostri attaccanti segneranno poco. Saranno super utili alla manovra. Ma chi segnerà tanto saranno i nostri trequartisti. Eccolo Beto. Occhio Beto. Occhio Beto! Mannaggia la misera. Che legna. Pensavo colpisse Olise. Che per il momento non si fa vedere troppo. Io voglio subito puntare su Amo anche. Vai, vai, Amo. Vai, vai, Amo. Però mi sto divertendo già tantissimo, raga. Premier League è tanta, tanta roba. Occhio Martial! Grabara! Pensavo entrasse, ragazzi, eh. Pensavo sinceramente entrasse. Vediamo dove stava andando questo palla. Che palla ti ha fatto Grabara, boys? Occhio questa palla per Mikolenko. Ma l'Augusto insegue. Cioè Juggs a chiudere su Gray. Della Cruz. Occhio Martial! Ancora Grabara con un intervento mostruoso. Io non so più come definirlo. Finisce qui! Finisce qui! Una parita di sofferenza! Una parita di sofferenza! Ma che alla fine ci portiamo a casa. Un super Grabara fa vedere subito di che cosa è capace. Ce la portiamo a casa però... In maniera igregia. Mi sono piaciuti i miei ragazzi. Mi sono piaciuti i miei ragazzi. Grabara ha tolto tutto. Incredibile. Mostruoso. Pazzesco. Senza senso! Com'è possibile? Com'è possibile? Uh! Attenzione perché ho visto un'offerta per il trasferimento importante. Eh ho capito però. Che vedevo di ragazzi? Che vedevo di? Cioè il Barcellona viene da me e dice io ti compro. E Edward e Andersen. Ci stai? Gli devo di. Vado a trattare però voglio 40 milioni. Minimo 35. 30. E 30. 38. Uh! 35. Se non avete i soldi... Però non venite a rompermi le palle. Ok. 35 milioni. Ho detto che non sarei sceso sotto i 35. 35 milioni sono più che onesti per Andersen. Arriva un'altra offerta per il trasferimento. Joachim Andersen. Il Copenhagen. Il Copenhagen. Vado a trattare. Vado a trattare. Carini. Bellissimo ragazzi. Bellissimo. Cioè. È incredibile. Come se... Come se... Però amici miei. Io capisco che siete in una situazione economica imbarazzante ma... Vai. Ci salutiamo. È stato bello rincontrarvi. Però capite gli intrecci di mercato che ci sono, che si creano. Uno spettacolo pure. Adesso abbiamo la EFL Cup, signori. Andiamo ovviamente a simulare contro il Preston. Facendo qualche cambio. Quindi mattetà titolare. Pep, Biel e Amo. In difesa centrale noi non abbiamo... Dobbiamo giocare anche a Bootland. Non abbiamo altro purtroppo. Però vada bene. Iniziamo i rigori. Ma dai, ma voi siete dei malati mentali. Voi siete dei malati mentali. Chi ha segnato gol almeno? Gheyi al novantesimo. Voi siete dei pazzi furiosi. Allora, io devo a tutti i costi Andersen venduto. Signori, dobbiamo comprare un difensore centrale. Perché io non mi posso presentare contro il Tottenham con cui a te... Difensore centrale. Non è il caso. Ragazzi, io ne ho inseriti un po'. Qualcuno su cui vorrei investire c'è. Però... Ne ho trovato uno. Anche Borno, secondo me, non è male. Ho trovato Denier. Che per me, per esperienza, ci può stare. Vediamo di non strapagarlo, questo Denier. Partiamo subito dal basso. Tra l'altro è un giocatore che ha 28 anni e ha ancora parecchio da dare. Non è che dice alla fine della carriera. Anzi, forse è al punto più alto della sua carriera. Io lo vedo bene al Crystal Palace. Rimuoviamo Brooks. Tutti vogliono Brooks. Sarà che è una pippa, forse? No. Ovviamente no. Sarà che è forte. Ovviamente sì. Come dicevo, sì. Probabilmente è nel fiore della sua carriera. 26 e mezzo. Hanno bisogno di tempo per pensarci. A questo punto rischiamo. E ci andiamo a giocare la parita contro il Tottenham. A questo punto rischiamo. E ci andiamo a giocare la parita contro la Sampdoria Bootland. E io poi non ho il portiere di ricambio, però. Però lui vuole giocare. 30 anni. Andiamo a trattare. Qua comunque rivoluzione... Mezzo rivoluzione, eh. Mezzo rivoluzione. Qua li stiamo vendendo tutti. Via dalle palle! Via delle palle. Via dalle palme. Allora, andiamo. Andiamo, non mi interessa niente di voglio giocare. C'ho una voglia di giocare enorme. Enorme. Allora, oggi titolarizziamo... Pep BL. Che è carico come un drago. Non è carico neanche un po'. Andiamo con Amo, per favore. Ma sapete che è quasi quasi... Cui a te glielo lascio lì. Ma lasciamo, io lo cuia e te. Andiamo così. Andiamo così, signori. Forza, contro il Tottenham. Andiamo in campo. Servizio il pezzo. Forza, Crystal Palace! Uno dice, cacchio mezzo. Hai già comprato parecchio. C'è ancora tantissimo da fare. C'è ancora tantissimo da fare. Cioè, è giusto... Mandare a giocare gente che vuole giocare. Bootland vuole giocare. E mandiamola alla Sampdoria. Poi, tra l'altro, se devo proprio essere sincero... Ripensando ad Andersen... Bravo, Clark. Al Barcellona glielo avuto pure. Considerato che c'è Christensen. Due danesi. Tanta roba. Però anche a centrocampo c'è bisogno di qualcosina di più, eh. Perché... Comical è un fenomeno. Che sacca... Dopo un po' C'ha moscia. Ma allo gusto, bella palla recuperata. Attenzione. Eze. Guardate Beto come porta via gli uomini. Amo, la mette in mezzo, Beto! Niente da fare. Alaba anticipa tutti e tutto. Però è esattamente quello. Quello che voglio, sinceramente. Raga, io mi voglio promettere una cosa. In questa... In questa mia esperienza al Crystal Palace. In Premier League. Sassiamo via il pallone quando possiamo. Cos'hai fischiato? Ma un po' di vergogna non la provi. Grabarone! Ho visto una scivolata là. Chi è che è andato in scivolata senza senso? Sacca. Centrale per Eze. Ezechiele bellissima per Amo. 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 Beto! No, centrale! Che dolore. Che dolore. Quest'azione sprecata. È una partita di sacrificio, raga. È una partita di sacrificio questa. Betone. Betoniere! Il Betoniere! Parabom, pom, pom! La partita più importante per sbloccarsi. Madre de Dios! Proprio lui! Un gol pazzesco. Uno stacco mostruoso. C'era una piegata a metà. Non l'ho visto. Salta su due giocatori. Non può nulla Ioris. Incredibile Beto. E adesso si soffre ancora Gravara. Io ho l'impressione che non gli si possa segnare a sto portiere. Non gli si può segnare. Eh, bravo Cugna. Solo così puoi segnare Gravara. Bravo Cugna, bravo Cugna, bravo Cugna. Eh, non ho potuto fare niente. Possiamo entrare in Mattetà. E Alberto Moreno. Ha fatto un gran gol, ragazzi. Ha fatto un gran gol. Veramente un peccato. Tra l'altro, primo gol che subiamo in questa Premier League. Non era semplice. Cugna ha fatto un'ottima partita. Non gli si può dare una colpa. Sto bravo Cugna. Bravo Cugna, te. Amo. Bravo Amo. Puoi andare Mattetà? Fammelo andare per bene Mattetà. Va bene, ci siamo ancora. Ma lo gusto. Ma lo gusto spinge. Ma lo gusto spinge. Aspetta l'arrivo di qualcuno. Ci guadagniamo un ottimo calcio d'angolo. Va bene lo stesso. Anche perché c'è l'ultima opportunità con Moreno che la mette nel mezzo. E va bene così. Va bene così. Strappiamo un ottimo pareggio. Al Tottenham. E' stata dura ma mi sono divertito tantissimo ragazzi. Tantissimo. Primo gol per Beto. Non è semplice. Sarà come vi ho detto anche prima molto complicato per lui segnare. Perché alla fine se la deve vedere con dei difensori molto molto tosti. Anche oggi sarà Alaba che non l'ha lasciato un secondo. Però vedete che a forza di darci dai 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 ce l'abbiamo fatta. In generale non mi dispiace comunque questo Crystal Palace. Ora ci stiamo avvicinando verso la fine del mercato che finiremo nel prossimo. E poi ci sarà l'Ungheria ragazzi. Ci sarà l'Ungheria. Arrivano un po' di resoconti. Inaccettabile l'offerta per Denier. Proviamo un attimo un'altra trattativa. Proprio al volo. Andiamo a vedere i resoconti e chiudiamo l'episodio. Perché qua secondo me sono tanti questi soldi. Questi no. Questi no. Per me va così. Aspetto a concludere la trattativa. Voglio sapere cosa ne pensate. Andiamo a vedere un po' i resoconti degli altri. Perché Fais è un 79 Carter Vickers un 76 Obispo che è quello su cui volevo puntare beh in realtà come seconda linea non è male. E anche Vuscovic. Perché secondo me il prossimo è Obispo che va via dal PSV. Però anche Vuscovic. Non è male. Non è per niente male. A questo punto signori ti salutiamo nel prossimo tanta roba tanta roba da vedere. Inizieremo a simulare forse qualcosina di più. Vediamo la Premier League. Siamo qua. Eh? Che ne pensate? Niente male. Tre gol fatti. Uno subito. Con calma. Senza fretta. Però ancora zero sconfitte per il momento. Bene signori. Segniamo poco ma subiamo anche poco. Questa è una cosa buona. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.